KONI CHIWA cari Giappo amici e benvenuti tutti quanti voi qui nel canale sono sempre il vostro Giappo Gamer e benvenuti quest'oggi su Yakuza Like a Dragon per un nuovo episodio siamo giunti esattamente all'episodio numero 59 di questa serie in questo gioco di ruolo veramente stratosferico e allora chissà cosa accadrà quest'oggi a Ichiban e al suo gruppo di eroi che devono stanare le tre mafie di Yokohama comunque sì insomma il mi consiglio è quello di iscrivervi al canale, di atterrare la campanella allora andiamo a vedere cosa succede in questo nuovo appuntamento di Yakuza Like a Dragon ok capitolo 9 un castello di carte e vediamo un po' in ultimo episodio abbiamo chiuso il capitolo 8 adesso siamo a un nuovo capitolo, un capitolo 9 e vediamo un po' come si fa la situazione eh un cattorentino pesce dalla scolazione della città ha messo tutto il suo lavoro L'Aochi Röhm ha avuto delle opzioni di TV e tanti e ha trovato un po' di chiara e ha fatto un commentamento e... poi mi ha dato che ci sono preso di cre8 migliori perché c'era un mondo del rinviolo lascolti anche i ragazzi è un po' di quelli che sono scolato 80% o com'è Sto che c'è un'esplice Ma 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 Non mi sembrava di vedere, ma non mi sembrava di vedere. Non mi sembrava che sia un'altra persona? Non, non mi sembrava di decidere. Non mi sembrava che sia stato un po' di Alakawa Masato. E? Che cosa? C'è quello che vuol dire? Aoki Lio ha avuto un po' di due anni fa, che ha avuto un po' di sicurezza. E' quello che ha avuto fatto, perché avevano fatto un progetto di Khamuro-Chankei. C'è un progetto di un progetto di Yakuza? Sì, e quando il progetto di un progetto di Khamuro-Chankei, i nostri progetti di Khamuro-Chankei sono quasi scoperte. Scoperte? Sì. 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 Eccola. Sì. 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 C'è un quarto? Ah, in realtà c'è un quarto in questo piacere 2. C'è un piacere, ma... C'è un piacere di usare l'azito? C'è un piacere anche, ma... C'è un piacere in questo numero di dormire. Se qui non c'è più di più o meno, se non c'è un piacere quando si dorme, nemmo che nemmo che non si può dormire Sì, buona idea E' certo, noi è molto piaciuto E' bene, Master? Non ho visto che non ho utilizzato a casa Non mi piace, ma Ma non ho capito Non ho capito, ma Voi voi non si chiama Il loro è stato per il loro stagione Il loro è stato un po' di un po' di Ora non mi piaceva Master Grazie Allora 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 Ma 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 Ok Vediamo un po' Bisogna anche Pur mangiare capito 9 un castello di carte Siamo giunti a questo nuovo capitolo Di questo Yakuza la Eka Dragon e vediamo un po' Insomma come si trova la situazione che è già un bel po' Incasinata Con in mezzo ai nostri dici Bankasuga Ok La notte direi che è passata Infatti Survive bar Si chiama Cioè bar Sopravvivenza Dovremmo andare a vedere Come la città sta affrontando la minaccia di invasione Alleanza Omi Eeeh Beh si però non c'è nessun obiettivo Ma Parebbe Di no Oddio qua Poche caffè Bisogna parlare Qua Vediamo un po' Noi siamo lì Ah qua pure Bar Rodriguez Prendere a questo bar Vediamo un po' Rispondiamo pure a cevolari Vediamo un po' che dice Mushi mushi No Ma ma cos'ha? Che succede? Uno Yakuza è venuto a cercarti Aia Che cosa? Un tizio di nome Totsuka De clan Seriu Totsuka eh Che aspetto aveva? Aveva un mucchio di sgherri al seguito Credo che Stiano passando Di bar in bar Chiedendo di te Fosi in te Sarei alla larga Da qui per un po' Ora devo andare Aspetta Ma cos'ha? Ok Cosa ha detto? A quanto pare Totsuka Ci sta dando la caccia Perciò ha detto Che non ci conviene Bazzicare per il suo negozio Pensavo che Totsuka fosse Già Pensavo che il clan Seriu Ci fosse andato pesante con lui Per quella faccenda della truffa all'ospizio Il che significa che Beh Sarà meglio andare a controllare Con i nostri occhi Anche se ci ha appena detto Letteralmente Di stare alla larga Puoi restartene nelle retrovie se vuoi Coglione Vengo anch'io E allora Andiamo Del restito del bar Ok Allora Tocca andare per di qua Per di là Perché di là che? Possiamo pure andare per di qua E facciamoci una corsetta va? Dai che caspita Pensavo a non beccarvi Sì livello 10 Ma che volete scagnozzi Dai Vai Cara che caspia distruggi Fanno fuori a questo così Butto la per terra Vai finiscilo subito Ok Vai così Oh è andato Ok Ottimo così Bene così Però 250 yen Vabbè abbiamo 39.054 Dovevo fare a botte ma eh Ce l'hanno preso poi direi lo 10 Banali proprio Vediamo un po' Qua c'è un passaggio Scusi eh Subimasen Ok la ci sono altri occhi ai macchine Eh cazzarola Vabbè qua Era inevitabile Uomini spaventosi Qua era totalmente inevitabile Mortacci vostri Che fai? Gli butti giù Oddio oddio Con lo skateboard Mortacci sua Stessa cosa Attacca con lo skateboard Così Mortacci tua Ah accanta pure lui Vedi Freestyler Di livello 23 E qui sono un po' più tostarelli Vai Kasuga Vai Kasuga Ma che è? Animale da pista Ma prendi questo così Fatto fuori Bene Skater Mago dei trick Bec di questo Freestyler Questa attacca Con lo skateboard Mortacci tua E che caspita Maledetti skater Maledetti skater No c'è otto vorrà Seco Ma che caspita di ganti Ok Canta te Canta te Seco Grandissima Cavolo mancato E prendi questo qua Così fatto fuori Ne rimangono tre Ok Cacci tua Cacci tua E no cazzo Grande Seco Ok Si aiutano un po' a vicenda Bene E prendi questo E prendi questo Questa attacca Cacci tua Che fai? Attacchi? Non attacchi? Attacca? Cavolo Vai cara Ok Ok Così Ok Beccato Bene così Occhio Occhio Questi attaccano No Tacci vostri Bastardo Ok fatto fuori Daie 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 Bastardo Ok Bene così Vai cara Vai cara Butto la in mezza strada Sto skater Oh Oh Sto passando con la macchina Oh Bene così Granata daci 1850 yen Buonissimi Ok Ok Proseguiamo per di qua Voglio un po' di arrivare al bar Ci sarà sicuramente qualcuno Infatti lo so io Io Pro di fronte Pro vicino eh Mortacci vostri Uomini spaventosi Bastardi Eh Ancora Pro Mancato Andaci sta per terra Bastardo Vai così Bravo Ichiban Vai cara Butto la per terra Che fai? Ah Canti? Noo Cavolo Vai così Vai così Adaci Vai così Adaci Stomago di trick Ok vai qua taurina Dai di taurina No ancora Il suo pezzo fantastico Eh Ok siamo in columi Bene Ok Nooo L'hanno bloccato Adaci Cazzarola Mortacci sua Magari vai contro il palo Eh Tacci tua bastardo Eh Prendi Questo qua Così Vai Vai adaci Vai adaci Vai adaci Colpisci così Grandioso Ma che cavolo Bastardi maledetti Vai col manzo Grandioso il manzo Vai 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 Magari caschi giù di sotto Bastardo Fatto fuori Vai Dai Dai povera Seco 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 c'ha 9 Nooo Nooo K povera Daci Mortacci vostri Vai Vai Prendi questo Eh 59 Vai Con la tua musica grandiosa Però non torna Adaci 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 Tu a bastardo Prendi questo Seco Vai così Ok Qua però non tocca attaccare cazzarola eh Nooo Nooo Cavolo pure Seco L'ho fatto fuori Nooo Si rilassa un po' Eeeh Ok E vabbè ma qua quanti siamo? Quattro contro uno Vai spiedo Vai con lo spiedo E prendi questo così Eh no qua ci fanno fuori Mancato Ma tipo non si può abbandonare? Eeeh Cazzarola Ce l'ho fatto fuori Eeeh Cazzarola Cazzarola Eh ma Cinque contro tre Quanti erano? Tocca evitarli a quei si qua Cavolo Il tronale Si è ridotto Della metà Allora vediamo un po' oggetti Onigiri di salmone Si Si Ok Ancora un po' Onigiri e le alche Oishi eh Buono eh Fortuna che l'ho comprati va Termezino Tonna e uovo Ok Ok eh ci sono quelli ancora lì Ma che caspita Qua che accade? C'è una riunione che è? Ah eccola qua C'è una riunione che ha detto Eh giusto No poraccia Bastardo 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 Porca la miseria col martello Eccolo Kasuga Grandioso Dai un cazzottone va così così Grande Eccolo Ok Bene Se ne va Aspetta 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E vabbè bastardi Vai adaci Colpisci così Grandiosa eh Non hai fatto tantissima però Vai così Vai così Acci tua E vabbè cazzarola Ok passi Eeeh 43 Cavolo Vai così vai così Ok Grandiosa Noo bastardo Ok Ok Vabbè bastardi maledetti Grandiosa Grandiosa vai Fai un'altra cantata Ottimo così Colpiscilo Colpiscilo così Fatto fuori Uno Quattro contro tre Acci tua Acci tua Vai adaci Vai adaci Così Oh mancato Oh mancato Grandiosa Vai così Attacca Sego Grandiosa Bene così Quello che è mancato Vai Kasuga Vai Kasuga Quello sta a metà Guarda anche Agnesco Mancato Vai così Mancato pure lui Vai adaci Colpisci Colpisci così Tacci tua Tacci vostri Vai vai Sego così Così Ok Tutsuki Lelo 25 È tosto Tacci tua Bastardo Vai adaci Quello tra un po' È fatto Dai È morto Eh No Bastardo Ok Grandiosa Vai così Ok No Contro Sego Bastardo Vai adaci Così Tre pari Tre pari Tre contro tre Brava Butto là per terra Brava Sego No Tacci su Con la mazza Ok Si è ripreso un po' Sego Ok Sego Si è ripresa quasi del tutto Attacca Gara Vai Brava Butto contro il palo Vai così Kasuga Tacci tua Ecco la mazza Butto là per terra Così Ok Contro Tutsuka E caso contro lui Fallo fuori Grandioso Vai così con la pianta Di cattiveria Di cattiveria Di cattiveria vuole lui No Sego il K Ok Ok Eh Quello che sta Quasi fuori Tacci tua Cavolo riprenditi Kasuga Riprenditi Ok 2.40 Ok Ok Questa attacca Ok Tecnico Spirito Doppio taglio E prendi questo Così Vai Spira il doppio taglio Pure tu Vai No Mancato Gazzarola Facci i vostri Ok Lui aiuta Kasuga Mancato Bastardo Oh Così ti impari Ok Però ciao Tadachi Vai così Mangia un po' Eh 63 Mette niente Kasuga Sanguina un po' Ok 213 Bene 170 E prendi questo E crepa Rimanzo solamente Totsukuro 25 E prendi questo Così Spira il doppio taglio Ok Si Fatto fuori Yatta Yatta 26.000 yen Dai così Eriamo a 46.452 Bene così Bene così Vediamo un po' Come si trova la situazione Eriamo a 46.452 Eriamo a 46.452 Eriamo a 46.452 Chè? Ma che è sta suoneria? C'è un po' C'è un po' Ah? Grazie a tutti 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 Porca la miseria Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Matane E ai prossimi episodi